Ciao a tutti ragazzi, buonasera, questo è un video serio per spiegarvi un po' la situazione di quello che è successo, diciamo l'argomento del giorno, del momento sui griffin. Sto seguendo la serie originale americana che esce ogni domenica, sono all'episodio 4, quello che è uscito questa domenica era appunto il 5, intitolato in originale Life of Brian. Cosa succede? Io lunedì mattina apro Facebook, come molti di voi sarà successo, vi diamo spoilerata questa notizia, io dalla pagina ufficiale di Femme & Guy, appunto Rip Brian. Casino, da lì proprio, vero e proprio casino su YouTube, per non dire putiferio, come direbbe il buon maestro Bonetti. Hanno ucciso Brian Griffin, a parte il fatto che a me questa, la grande fan di Griffin, posso dirlo, sembra più una grande trovata pubblicitaria, perché non possono uccidere Brian Griffin, è una cosa impossibile. Girano voci, io adesso, stasera vedrò l'episodio originale, penso stasera e martedì, se lo sottotitoleranno, lo vedrò. Però penso che sia una cosa così provvisore, perché è come se, che so, i Simpson uccidessero Lisa o Bart. Cioè, non può accadere una cosa simile. C'è chi dice che è Stewie, molto probabilmente, ma non è ancora detto niente. Stewie tornerà indietro nel tempo con la sua macchina, bla bla bla, lo farà risuscitare. Per adesso nulla è certo, ma sono convinto di una cosa, ovvero che Brian non può morire, non deve morire. Anzi, appunto, quella Troia di Meg. Vedremo come andrà, perché parte la gente che parla così senza seguire la serie originale, che vede due link da... che non sai neanche cosa è successo alla fine. Io non parlo adesso, non dico più di tanto, perché non ho ancora visto l'episodio. Il più di un'immagine che ho scritto Rick e Brian, io non ho visto niente. Se mai ne riparlerò più presto, quando avrò visto l'episodio. Vedremo un po'. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e ciao Brian. Grazie per aver guardato il video. Ciao a tutti.